basta fargli fargli i ricciarelli sono un dolce, un biscotto, 4 stagioni potete farlo per Natale, Pasqua, Peragosto, per quando volete vi faccio vedere come li faccio io, vi do anche tutte le varianti 200 g di mandorle pelate, già pelate io li tosto un pochino in padella questa è una cosa in più, è una cosa mia per dare più sapore se volete lo fate anche voi, se no non lo fate e le usate naturali come sono padella, 2 minuti per pelare le mandorle basta metterle al bagno una notte nell'acqua fredda e alla mattina schiacciate e viene via come un calzino la buccia oppure mezz'oretta nell'acqua bollente oppure le comprate già pelate come ho fatto io, che fate prima le hai fatto te perché sei un pigrone sì non devono tostare tanto, appena appena questa cosa qui di tostarle leggermente esalta moltissimo il sapore della mandorla le distende un po' così si raffreddano molto in fretta non hai chiesto di tostare così tanto cucchiaiore e di metterlo in un pentolino a parte e tutto il resto lo mettiamo insieme alle mandorle una buccia di arancia o di limone quando tagliate la buccia prendete dentro un pochino di bianco perché così darà una nota leggermente amarognola alle nostre mandorle che sono già un po' amare di loro ma questo è un amaro diverso, più intenso macinare molto finemente prima di tirarlo fuori dal macinino controllatelo, lo fate così con le dita sembra segatura, non va bene deve essere più fine, quindi macino ancora dopo un paio di minuti con il ricontrolliamo in effetti è più fine sembra come semola diciamo un po' più fine di prima adesso va bene versiamo la nostra farina il zucchero di mandorle in una bacinella abbastanza comoda e spaziosa tenendo conto che poi dopo bisogna mettere altri ingredienti domandona Gabriele posso utilizzare la farina di mandorle quella già macinata nei sacchetti? sì, però tenete conto che non è tostata comunque sì, la potete usare tranquillamente vi ricordate il cucchiaione di zucchero che avevamo tirato da parte? ecco qua ci aggiungiamo 20 grammi sono circa 3 cucchiai di acqua acqua fredda acqua del rubinetto lo sciogliete con un cucchiaino e lo portate ad ebollizione ma mica si vede? dopo lo faccio vedere quando bolle è troppo piccolo questo tegamino? è piccolo per fare 3 cucchiai di acqua mi devo usare un pentolino grosso un baracchino va benissimo sta bollendo lo vedi che bolle? no bolle fidati bolle via al fuoco aggiungiamo questa specie di sciroppo di zucchero alla nostra farina nostra? mi correbbo alla mia farina non la nostra è mia vaniglia se vi piace altrimenti usate anche altri aromi quello che vi piace anche va bene l'aroma di mandorle amara ci sta bene ci metto 20 grammi di amido di mais devo dire che non va bene la fecola però perché le ho tostate il profumo si sente tanto perché le ho tostate si sente da qua intanto che sbatto il bianco di un uovo volevo dirvi di non usare la fecola usate l'amido di mais la fecola non va bene per questa ricetta serve l'amido un bianco d'uovo leggermente sbattuto buttiamo dentro non montato la neve che è inutile mischiare con un cucchiaio con un dito quello che volete una volta mischiato quando vedete che iniziate a fare un po' fatica vi accucchiaio dentro le mani e non tutte le uova sono grandi uguali non tutte le mandorle assorbono la stessa farina quindi se per caso lo trovate troppo appiccicoso ci aggiungete ancora un mezzo cucchiaio o un cucchiaio di amido di mais mi sposto sul tavolo vedete che è un po' appiccicoso ci aggiungo un pochino appena appena di amido di mais ancora per asciugarlo e farlo diventare un po' più liscio non tanto eh non tanto amido perché vedete ne ho messo pochissimo guardate basta fargli fare due girettini e gli date una forma cilindrica prendiamo il nostro cilindro lo mettiamo su una teglia o su un piatto lo copriamo con la pellicola o meglio ancora con una ciotola capovolta frigorifero paio di ore circa perché si deve rassodare un po' se volete potete farlo anche la sera per la mattina che anche se fa un po' di ore in più di frigorifero gli fa solo bene eh quindi due ore è proprio il minimo così la mattina arrivate belli pronti, vi tirate fuori, lo finite mezzogiorno mangiate biscotti sono passate due ore, due ore e mezza questo tempo serve per permettere alla farina di mandorle di assorbire tutta l'umidità che c'è intorno in maniera che si gonfi bene e poi non la sentite in bocca ecco qui il nostro impastino è pronto adesso lo tagliamo a fette e formiamo i biscotti classici a forma di ricciarelli non so come si chiama quella forma lei forma di goccia ma poi le gesti ma che gesti ci siamo capiti la spatolina tiriamo su il nostro impastino lo mettiamo sull'asse nello stesso piatto abbondante zucchero a velo tranquilli che dopo lo setacciamo e lo recuperiamo deve essere abbondante tagliamo delle fettine alte circa un centimetro potete usare anche dello zucchero sotto se avete paura che si appiccichi cercate di dargli una forma comunque regolare un taglio regolare in questa fase meno lo pasticciate meno lo fate andare in giro e meglio è così tirate sulle fette belle pulite le puciamo nello zucchero così non c'è pericolo che ci sporchiamo che le rompiamo eccetera e gli diamo la classica forma di ricciarello schiacciamo un po' potete farli anche più grandi più piccoli fateli un po' come volete la temperatura fredda permette di dargli la forma che vogliamo in questo caso io penso che sia più o meno questa qui la forma del ricciarello adesso perché ne ho visto in talmente tanti tipi gli diamo un'ultima ripassata per bene sullo zucchero gliele metto sopra anche un po' in più di aggiuntivo e lo metto in una teglia con la carta forno sotto in alcune ricette vedrete capita insomma si usa mettere sotto al biscotto dell'ostia ritagliata con la forbice della stessa forma è una cosa facoltativa questi sono biscotti che arrivano dall'oriente dai tempi delle crociate e quei tempi che usavano le ostie però fate un po' come preferite ma che belli ti vedo impegnato si mi piace un casino sembra di giocare col pongo faccio vedere uno veloce facciamo un timelapse ah devo dire che nel frattempo ho acceso il forno vedete sono come il pongo non c'è bisogno di usare farina di cose strane zucchero abbondante due cose all'intanto ho acceso il forno 150 gradi perché deve essere preriscaldato lo zucchero ricordatevi di farlo in questa fase qui di metterglielo su in questa fase qua gli date la forma che più vi piace comunque la forma classica del ricciarello che questa qua più o meno adesso io non sono tanto bravo a farli però non è neanche così complicato e lo zucchero sopra deve essere molto modante messo sopra qui non messo nella teglia perché altrimenti ne sprecate un mucchio perché mettete lo zucchero dappertutto se usate il setaccino devo dire la cosa dell'uovo Gabriele posso farlo senza uovo? no, mi dispiace ma senza uovo non sta insieme e si sbriciola tutto un uovo che lo tiene insieme ok, spero mi lavo le mani questo qui l'ho detto che lo recuperavo sì vai dolcezza dolcezza forno preriscaldato a 150 gradi preriscaldato 15 minuti dentro fuori è fatto dopo esattamente 17 minuti eccoli qua appena li sfornate sono un po' delicati quindi non datela con le mani a schiacciarle come ha fatto qualcuno e ne ha rotto uno aspettate che si raffreddano e dopo li mettete nella biscottiera spettacolo profumo mamma mia io non resisto più comunque bisogna aspettare almeno un'oretta che diventano freddi guardate che roba non vi dico io ho una voglia di cacciare in bocca questo cosa che non avete idea per capirci ha la consistenza degli amaretti fuori c'è la crosticina leggermente croccante dentro è morbido morbido è friabile è una canonata quando sono freddi li mettete in una scatola li chiudete e li tenete nell'armadio per parecchi giorni durano sì l'armadio è un cassaforte non sono riuscito neanche a rubarlo non durano neanche fino a stasera questi qua ah sta ancora andando appena mangiato la polenta non ce la posso fare tocca a me e non mi dici niente sono qua come una pirla finito di pulire il suor maria vai bello olè tocca a me faccio io il ciac ciac si gira hai acceso il microfono? yes vado vai i ricciarelli facciamo i ricciarelli come facciamo? faccio i ricciarelli li facciamo appena li buona lì ecco andiamo in forno dove andiamo? dove andiamo? asial PG asial 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 arabica esalt ah asial asial samp